L'amore di Dio è impresso nel nostro cuore, nella nostra vita. Però un matrimonio senza amore non può esistere. L'amore che ha fatto scegliere l'uno dell'altro, l'amore che ha abitato a questo gioco, l'amore che ha abitato a questo gioco, l'amore che ha abitato a questo gioco, l'amore che sa di dialogo, che sa di impegno, che sa di donazione, che sa di sofferenza, che sa di sacrificio, che sa di impegno. L'amore è stato non esiste, l'amore è stato, l'amore è stato, l'amore è stato concreto, i sentimenti che scaturiscono dal nostro cuore, uno per l'altro. Ecco, vedete, l'amore è la forza che viene impresso e non so essere uomo, donna, vasca e febbra. L'uomo senza amore non può vivere. Però vedete, noi vi auguriamo questo, che voi possiamo vivere il vostro matrimonio dell'amore, l'amore è semplice, l'amore è paziente, l'amore è sincera, l'amore è totale. E tutto, attorno all'amore gira la vita di un uomo, di una persona. E tutto, attorno all'amore è stato, l'amore è speltato, l'amore è stato,'ll 외出来 di un uomo, di una persona. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti